Expo Scuola si riconferma l'appuntamento nazionale più importante dedicato al mondo della scuola e dell'orientamento che si terra dal 14 al 16 novembre in fiera a Padova. L'iniziativa è stata presentata in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della provincia di Padova Fabio Bui, il consigliere provinciale delegato Luigi Bisato, il direttore generale della fiera di Padova Luca Veronesi, il direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Padova Roberto Natale, l'assessore alle politiche educative e scolastiche del comune di Padova Cristina Piva, il direttore per la pastorale dell'educazione della scuola della diocesi di Padova Don Lorenzo Celi. La manifestazione sarà divisa principalmente in tre sezioni. Expo Academy per approfondire l'ambito dell'università, degli istituti tecnici superiori, delle accademie e istituti d'arte, di moda e design, associazioni di categoria. Expo Scuola per la scelta della scuola superiore con la possibilità di incontrare insegnanti e studenti delle scuole secondarie del territorio e partecipare agli appuntamenti con gli esperti di orientamento per fare la scelta giusta. Play for Edu per i visitatori più piccoli che potranno imparare giocando attraverso numerosi laboratori e attività educative, ludiche e sportive e faranno trascorrere a tutta la famiglia momenti di spensierata allegria. Sarà un'edizione di crescita e innovazione accanto al programma tradizionale in cui la provincia conferma anche quest'anno la presenza di personale specializzato per incontri specifici di orientamento rivolti agli alunni di terza media e alle loro famiglie. Le istituzioni che investono sulla scuola, investono sul futuro, sulla formazione dei nostri ragazzi. 22 edizioni che fanno significare che i figli dei genitori che hanno visto le prime edizioni che erano studenti oggi vengono ad accompagnare i figli. Un evento che ormai fa parte della tradizione delle proposte delle istituzioni padovane, il comune, la provincia, l'ufficio provinciale della scuola Lente Fiera, tutti insieme per parlare di futuro, per parlare di formazioni ed è su questo che anche la provincia che al primo punto del proprio mandato, proprio la formazione scolastica, stanno investendo. Io penso tra l'altro che sia profondamente cambiato nel corso di 22 anni l'approccio che le famiglie hanno con la scelta delle scuole superiori in particolare. Prima era quasi definito un po' il percorso, invece adesso ci sono tante e tali proposte che vanno valiate, vanno verificate sul campo e soprattutto c'è una scelta decisionale da parte dei ragazzi che una volta magari era un po' sottesa. Quindi diventa ancora più pregnante avere una proposta di questo tipo che è per tutto il territorio padovano, che raggiunge l'obiettivo dei 22 anni, che quindi si consolida e che ha superato i marosi della storia, si potrebbe dire.